Noi dobbiamo guardare quello che sono state le nostre occasioni sbagliate, i nostri demeriti. Quindi questi sono i limiti del Teramo di oggi, no? Visti oggi tante occasioni create e non buttarla dentro, purtroppo poi il risultato è determinato da questo. Oggi penso che il nostro più grande demerito sia stato quello di non riuscire a concretizzare quelle 5-6 palle goal che rispetto ad altre partite non abbiamo magari neanche avuto perché sono state 5-6 occasioni nitide comunque, in aria da soli a calciare, prendendola male, tirandola addosso al portiere, tirandola fuori. Questo è stato il limite secondo me nostro di oggi. Voi sapevate che la Fermana giocava in quel modo, cioè puntava tutto sulle ripartenze. Prima avete corso qualche pericolo, prima del gol e poi vi ha fatto gol. Abbiamo preso sì, un'altra palla lunga in cui, in contropiede, cioè contropiede mi sembra una parola eccessiva. Io ho la sensazione che oggi il Teramo abbia voluto comandare il gioco a differenza di altre gare dove magari invece era stato un pochino guardingo e poi cercare di sfruttare l'occasione contro una squadra che giocava tutto sulla velocità e l'aggressività. Mi sbaglio? Due cose. Contropiede, ho un'idea diversa del contropiede, nel senso che il contropiede è un'azione che uno decide di fare in contropiede. Loro erano palloni buttati lunghi nello spazio, sfruttando ovviamente la velocità dei loro attaccanti e va benissimo. Il fatto che noi abbiamo cercato di fare la partita, a parte che è quello che in teoria proviamo a fare sempre, delle volte ci riesce, delle volte no. Ma penso che se oggi non avessimo provato a farle noi, probabilmente ci saremmo guardati ognuno nella propria metà campo. Mattia, anche noi abbiamo sottolineato il fatto che l'arbitro abbia consentito le continue perdite di tempo alla fermata. Però voi che eravate in campo, si è avuto l'impressione che non vi siate, forse sbaglio, fatti sentire dall'arbitro. Oppure no, mi sbaglio? Che cosa gli dicevate in quei frangenti? Penso che abbiamo perso più, anche noi, ed è sbagliato perché non bisogna cadere in questo, ma abbiamo perso anche noi più voce e energia a prendercela con l'arbitro o con loro per perdite di tempo all'avanzamento di ogni volta 15-20 metri. Si buttavano per terra, rientravano in campo e poi si riuscivano. In campo, io non so se a qualcuno di voi è mai capitato di giocare, ma non è facile rimanere lucidi e non innervosirsi. Noi penso che siamo stati anche abbastanza bravi nel non innervosirci e nel provare a giocare. Perché se no, io penso che con una squadra così, se fossimo andati dietro a loro, ci mettevamo i guantoni e finiva a calcio ai punghi. Io penso che questo sia un lato positivo di quello che noi comunque abbiamo provato a fare, quantomeno. Che cosa cambia adesso per il termo? Comunque un'occasione persa, visto anche gli altri risultati, anche quello di ieri, un punto sarebbe stato grasso che cola, no? Beh, sì, ovviamente avendo perso un punto sarebbe stato meglio, però noi ci tenevamo a vincere la partita, sapevamo comunque di poterla vincere. Perché il campo, al di là delle occasioni che abbiamo concesso, che a me non sono state così tante secondo me, però ognuno vede le pari. Poi dal campo si vedono cose diverse a volte. A proposito di vedere le cose diverse sul fuorigioco, o è scattato sul filo, oppure forse al di là, non so che cosa avete visto voi, anche gli episodi dubbi in area di rigore della fermana? Nel primo tempo c'è un Mani, e questo, a differenza del fuorigioco, che non posso bene avere una certezza perché non essendo in linea, il Mani ero davanti e quindi posso confermarmi che c'era ed era anche abbastanza netto. Senza braccio stretto, era Mani ed era rigore. Però penso che la cosa che viene più da lamentarmi a me, al di là degli episodi, che si possono sbagliare come li sbagliamo noi, un passaggio, un tiro, sia la gestione generale della partita. Perché non possiamo giocare su 90 minuti, 25 minuti a tempo e gli altri stare a chiacchierare e a perdere tempo. Mattia, adesso quattro partite, credo fondamentali, proprio perché incontrate delle formazioni che come voi vogliono salvarsi in maniera diretta, no? Avrete tre gare fuori e una dentro. Sì, sono quattro scontri diretti, importanti per noi e anche per loro, però che ci danno la possibilità di avere il nostro destino nelle nostre mani e quindi è una cosa importante e su cui lavoreremo sicuramente.